Il ministero che guida Luigi Di Maio è strategico e quindi abbiamo convenuto sulla tematica del lavoro e dello sviluppo in particolare, questo sarà l'oggetto del colloquio con Di Maio oltre che su alcune vertenze specifiche di cui abbiamo già parlato ieri telefonicamente saranno oggetto di un incontro a Roma la settimana prossima.